E' un'eliminazione, un naufragio a pochi metri dalla riva, un po' una delusione per non essere arrivato o sei comunque soddisfatto del tuo percorso? Io ho sempre detto, a me non è un naufragio, a me è un arrivo in porto con il Gran Pavese, non avete mai visto le navi di crociere quando arrivano e mettono quelle bandiere che si chiama Gran Pavese? Per me è un arrivo in porto con il Gran Pavese e con i rimorchiatori che buttano acqua, ma vabbè. Senti, nel duello con Federico c'era un ingrediente che era appunto la salsiccia e poteva esserti in qualche modo favorevole, però poi sei caduto sul peperone, come mai? Cosa è successo lì? Allora, il peperone non è proprio una caduta, perché se lo cucinavo c'era la cosa opposta, perché cucinare un peperone in otto minuti sfida pure il miglior chef stellato. Allora, se lo facevi ti bastonavano perché era crudo, allora non c'è più altro. Se non lo facevi, non l'hai fatta. Allora, tra sé, tra il dire e fare, cioè di mezzo il mare, no? Quindi ho deciso di non farlo, sono contento perché meglio non farlo che poi fare figure in merda e dire che questo non l'ha saputo cucinare. E quindi ho preferito questa mia idea, sbagliato giusto che sia. Senti, se invece di Federico ci fossero stati Almo e Enrica, pensi che saresti cavata, sempre in duello? No, allora sono più bravi di me. No, tutti e due. Enrica, io secondo me Enrica è una brava, una proprio brava in cucina. A me piaceva come cucinava. Almo è suddista come me, è un mio amico, quindi, cioè già Federico un po' di sfida ci sta perché Federico Nord, Torino... c'è sta sta linea, no? Anche se il rockhunt la voleva abolire, ma purtroppo c'è sta. Non è che non c'è sta, quindi va bene. Quindi là più me la so tirata, me la so giocata. Con Almo e con Federico io non riesco a careggiare con i miei amici. È una mia pecca da quando ero piccolo, anche quando facciamo la partita fra amici, amici dicono, No, ma tu pazzi sempre! Eh, no, traduco perché non ci stanno i sottotitoli. No, io ho detto, tu giochi sempre? Sì, a me piace giocare, mi diverte, cioè... Per me le cose più importanti della vita sono altre. Mi sono trovato a ballare, ho ballato, però poi basta. È andata bene, sono contento, quindi quando uno è contento di quello che ha fatto, credo che va bene. Senti, la tua schiettezza, la tua simpatia, il fatto che sei sempre molto diretto, a volte hai sottolineato anche i tuoi limiti. Stessi, cioè, e pensi questo possa essere stato anche uno svantaggio? No, ma io i limiti, cioè, secondo me uno che conosce i propri limiti non è uno svantaggio, no? Io mi ritengo fortunato, molte volte sono stato fortunato, però sapere i propri limiti, perché io la cucina ho fatto sempre per mia moglie, per i bambini, per i miei amici. Poi le buoni ti trovi davanti a Chef Stellati, passi delle selezioni, ma dici, papi, questo è veramente... Quindi io già stavo oltre le mie capacità. Uno dei forse, degli aspetti un po' più problematici è stato l'impiattamento. Pensi di essere migliorato in quello? Ma l'impiattamento, l'impiattamento è essere portato, cioè devi fare delle scuole. Io vengo da... Noi dici che ridete, è così. L'impiattamento è una cosa fondamentale, cioè, gli chef vanno a fare corsi che durano anni e nemmeno ci riescono. Quindi, come ci posso riuscire io, che fino a ieri pigliava un cucchiaio e metteva proprio... Certe volte faccio anche la padella, come faccio... L'impiattamento è una mia pecca, non lo so fare. Però, dicevo sempre, perché il grande maestro... Io seguo molto gli chef come personaggi. Mi piace molto Chef Stellati, Scabbin, Cannavacciolo. Loro sono persone che prima si sono basate su saper cucinare. E poi, dopo viene il resto. La cosa difficile era, se tu sai impiattare, però quando vai a assaggiare, non ci sta niente. Quindi, io qualcosina credo che in cucina so fare. L'impiattamento poi mi arrangerò pian piano. Vedete anche bei piatti. Senti, sei stato un maestro, si può così dire, devi farsi d'autore. Cioè, riuscivi anche a rendere i tuoi piatti, a prendere spunti dagli altri. Ad esempio, con Federico sul cuore di Vitella e poi a vincere l'invention. Lo sai che cosa è che tu, quando... Io credo che la cucina è anche conoscere i prodotti. Purtroppo, stando in un paese, Milano, dove la spesa non la vanno a fare, tipo come vanno a Napoli. Quindi, il prodotto è diverso, molto diverso. Anche se ti danno delle cucine, ti danno degli ingredienti meridionali. Però, non riesci a... Io, infatti, sulle Misteri non sono mai andato bene. Perché non ho mai trovato un prodotto che sentivo mio. Sull'invention, quando devo replicare e assaggio il prodotto, io te lo so fare. Infatti, se si vede, sono l'unico che ha vinto forse quattro invention in tutti i Masterchef, di tutte le edizioni. Perché quando devo ripetere un piatto, io ci riesco. Cioè, se mi fai assaggiare un piatto, io riesco a capire. Se invece lo devo inventare io, questo piatto che non so, vado in difficoltà. Ma questa è una mia pecca, cioè... Va oltre Masterchef. Senti, nell'esterno, invece, alla grandissima, spesso capitano, hai quasi sempre vinto. Però c'era sempre un po' di, diciamo, turbolenza nella tua brigata. C'era un po' di casino, riusciavi piuttosto liberi. Io sai come ho fatto? Io ho fatto un po' come facevo sulle navi. Sembra che sono liberi, no? Che tu, quando stai su una nave... Anche, non so se qualcuno ha mai fatto equitazione, no? Equitazione o salto ostacoli. Nel momento in cui vedevi che il cavaliere... Sembrava che faceva tutto il cavallo. Che faceva piccoli gesti. Quello era un cavaliere bravo. Nel momento in cui vedevi uno che faceva tante cose... Quello era un cavaliere che non chiedeva niente. Era un cavaliere che non era un buon cavaliere. Quindi io ho cercato nell'esterno... Cioè, siamo amici. Non posso andare... Noi viviamo assieme. Quel ruolo di capitano che poi piaceva tanto anche a livello di Masterchef. Era un ruolo relativo. Non era il capitano. Perché il capitano è quello che comanda. Noi là eravamo fin di capitani. Cioè, sono delle persone che io ci sto vicino. Non mi sento poi di dire... Oppure dicevo... Oh, per me sei il suo capitano, devi fare come ti dico. Io io no. A me no. Se poi vedevo che non andava bene. Io vincevo la prossima... Non me lo mettevo in squadra. Questa era la mia strategia. Con Almo c'è un rapporto di amicizia. Sembra che sia andato anche fuori quasi da Masterchef. Vi frequentate Andrea Tifarro in finale? Allora, Almo è una persona... Che io vado d'accordo. Cioè... Tagliamo, no? No. Ci stai. Con Almo siamo amici. Io sono amico un po' con tutti. Anche con chi mi ha tirato delle frecciate. Perché poi delle persone davanti alla telecamera si trasformano. Invece volevo essere uguale. Quando ci sta la telecamera ci sono certi che ti vogliono dire la cosa. Io invece quello che ti devo dire te lo dico direttamente. Se vado d'accordo con una persona ci sto di più. Se vado d'accordo di meno. Non è che devo litigare per forza. Ci sto di meno. Cioè non è che devo fare per forza sta guerra di potere. Siccome con Almo andavo d'accordo. Dalla prima esterna ci siamo trovati bene. Con Enrica mi sono trovato bene. Con Alberto mi sono trovato bene. Michele. Ma è Michele Guida per esempio. È Michele Guida che ci siamo trovati bene. Poi mi sono trovato bene. Un po' con tutti. Pure con la stessa Racita che ha litigato con tutti. Con me non ha mai litigato. Cioè ha fatto sempre quello che dicevo io. Ultima domanda. Si può dire che il tuo Masterchef si riassume in quell'abbraccio con Chef Cracco e quel ti voglio bene. Sì. Quella è la cosa più bella credo. Che nessuno potrà mai togliere. Cracco che ti fa un abbraccio. Specialmente l'uomo di ghiaccio. È bello. Io sono contento pure per questo. Sono uscito normale. Sono entrato in punta di piedi. Me ne esco in punta di piedi. Non è che il Masterchef dovrà cambiare la mia vita. No. L'ho sempre detto. Mi fa piacere perché mi ha dato uno sprint vitale a me. Però sono contento pure del percorso che ho fatto. I miei fan possono stare tranquilli perché tra i peggiori non ci sono mai andato. Quindi sono uscito direttamente. Un saluto per i visitatori di Rumors.it. Ce lo puoi fare? Come? Rumors.it. Alla grande.